A voi tutti cari amici di Meteo Giuliacci, un inizio di fine settimana caratterizzato dal bel tempo, grazie a lui, grazie all'anticiclone. Ancora qualche disturbo acquazzone o temporale nelle zone interne della Sicilia nel pomeriggio, guardate, ma solo nel pomeriggio o meglio nelle ore centrali del giorno, poi prevalentemente sereno anche in Sicilia, ma il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sui rilievi su tutto il resto d'Italia. E quindi godiamoci questo venerdì, ma poi tutto il fine settimana sarà praticamente bello sulla penisola italiana, con temperature tra l'altro perfette, caldine ma piacevoli durante il giorno, fresco invece di notte e al primo mattino un po' le temperature stanno aumentando. Per il momento io mi fermo qui, buon proseguimento, arrivederci.